e adesso chiariremo bene tutto quello che abbiamo discusso fino adesso Fakir e Mr. Shah all'inizio della curva prosegue in vantaggio Stundayu davanti a Bryjaniab Vento del Sahara, Fakir, Mr. Shah e Sarkittu poco prima dell'ingresso di Tura in leggero vantaggio Stundayu davanti a Bryjaniab, Vento del Sahara e Fakir i cavalli entrano in dirittura in vantaggio Stundayu attaccato all'esterno da Bryjaniab seguono Fakir, Vento del Sahara, Mr. Shah e Sarkittu passa Fakir davanti a Bryjaniab, Vento del Sahara, Mr. Shah e Stundayu in vantaggio Fakir davanti a Vento del Sahara e Bryjaniab conduce Fakir davanti a Vento del Sahara, Bryjaniab e Mr. Shah grazie a tutti 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 grazie a tutti